ciao ragazzi poco tempo fa ho visto di aver fatto un errore e mi sono accorto di aver detto 10 invece che 9 e allora adesso rifaccio il video ho cancellato il video del melario di come è fatto un melario e lo rifaccio ma molto più corto perché così almeno non sto lì a perdermi e voglio spiegare bene come è fatto un melario in poco tempo allora semplicemente il melario è nient'altro che un diciamo una piccola cassetta fatta come il diciamo fatta come l'arnia di dimensioni diciamo più basse ma le dimensioni diciamo del quadrato sono completamente uguali e solamente più bassa perché contiene questi telai che praticamente sono telai da melario piccolini e sono 9 non sono 10 ripeto sono 9 telai e non 10 mi sono sbagliato nel video scorso a dire che erano 10 ed è anche per questo che rifaccio il video voglio essere preciso e non voglio fare confusione sulla gente perché qualcuno mi ha fatto notare che non bisogna scassare con certe cose perché se no la gente si confonde fa un casino e poi mette 10 telai dentro un melario beh penso che comunque qualcuno ci potrebbe anche arrivare con magari qualcuno no comunque ragazzi ripeto sono 9 allora questi telai vengono messi semplicemente all'interno del melario sono fatti della stessa misura di un telaio normale lo potete vedere da questo semplicemente è quasi la metà se potete vedere infatti mettendolo sopra un telaio da nido il telaio del melario è la metà viene montato comunque il foglio cerio come viene fatto in quello da nido e niente questi dove telai appunto che vengono rimessi all'interno del che vengono messi all'interno del melario vengono riempiti dalle api solamente di miele perché solamente di miele perché tra il melario e praticamente e l'arnia vi è un escludiregina che non è nient'altro che una griglia e adesso non sto lì ad aprirla farvela vedere oppure vediamo se riescono non riesco ad alzarla non ho la levetta e quindi praticamente passano le api a portare sul miele ma non passa la regina perché così sono andrebbe a deporre le uove al suo interno e verrebbe un pasticcio invece di raccogliere il miele raccoglieremo larve e polline e casino boh questo è tutto ci vediamo nel prossimo video ciao b